In un tempo scandito dal libero accesso alle informazioni nel quale il sapere sembra essere alla portata di tutti, l'uomo appare smarrito, perché la conoscenza autentica di sé e di ciò che lo circonda non passerà mai unicamente attraverso una semplice e frenetica accumulazione di dati. La sapienza è prima di ogni cosa frutto di umiltà e di dialogo tra uomini e saperi diversi, alla luce di questa verità e del rapporto tra conoscenza e misericordia si è svolto il giubileo delle università e dei centri di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica. Gli Atenei Capitolini sono stati animati da 22 sessioni di lavoro tenute da circa 300 relatori. Il mondo universitario è tornato ad interrogarsi sulle inquietudini e i bisogni profondi dell'uomo. Liberare la società schiava di falsi ideali rappresenta il primo passo da compiere per elaborare anche in ambito accademico nuovi modelli di aggregazione sociale, come ha sottolineato sabato scorso Papa Francesco in occasione dell'udienza giubilare. Sembra che l'uomo di oggi non ami più pensare di essere liberato e salvato da un intervento di Dio. L'uomo di oggi si illude infatti della propria libertà come forza per ottenere tutto. Si vanta di questo anche, ma in realtà non è così. Quante illusioni vengono vendute sotto il pretesto della libertà e quante nuove schiavitù si creano ai nostri giorni in nome di una falsa libertà. All'interno della cornice giubilare si è tenuto a Roma il tredicesimo simposio internazionale dei docenti universitari, i cui lavori, terminati nel pomeriggio di venerdì scorso presso l'aula magna della Pontificia Università Lateranense, si sono concentrati sulla necessità di una scienza sempre più in ascolto dell'uomo. Conoscenze e misericordia possono insieme migliorare la qualità della vita. Ne è convinto il cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto della congregazione per l'educazione cattolica. La missione di chi insegna, di chi forma, è un servizio che deve essere fatto proprio nel segno della carità e quindi della misericordia, capovolgendo un po' quella mentalità mondana che invece per coloro che sanno di più, che hanno di più, c'è una sorta di privilegio, di dominio, mentre secondo lo stile evangelico che deve essere appunto praticato nella misericordia è quello che chi più ha deve più dare, per cui la verità diventa bene e diventa opera di carità. La misericordia si fa azione concreta, la carità intellettuale può diventare così il motore di una nuova civiltà, come afferma Cesare Mirabelli, presidente del comitato organizzatore del XIII Simposio Internazionale dei docenti universitari. Se pensiamo tra le opere di misericordia spirituale, insegnare agli ignoranti, vediamolo nel senso più completo e più alto, sviluppare le conoscenze, diffondere le conoscenze, educare. Non è questo il ruolo proprio dei docenti universitari e delle università come istituzioni?